Noi siamo pronti per andare all'incontro Siamo a due strafi, vero amore? Lui mi ha detto che il viola non gli piace Right! Oggi è una giornata iniziata bene, io mi sono sviata a mezzogiorno, lui alle 6 Di mattina! Vero? Di mattina! E niente, noi adesso andiamo, facciamo un po' di foto che aggiungeremo sicuramente qui E niente Buon popericcio! Io ho capito una cosa Cosa cavolo hai capito? Dobbiamo stare fermi Non toccare! Va bene così, va bene così, va bene così! Si vede uguale! Va bene! Abbiamo capito una cosa, ragazzi! E cioè che non siamo capaci a fare gli incontri Che molto probabilmente lo farò solo quando ci avrò 150.000 iscritti 150.000! No, però nonostante fossimo poche, ma buone, vera raga, mi sono spaccata da ridere! Infatti, che cazzo c'è nel dente figa! Ma che do? Basta! Vabbè, comunque vi lascio poi qua in fondo la foto delle tre meravigliose, meravigliosissime ragazze Che si chiamano Eleonora, Linda e Letizia, giusto? O almeno io questi nomi mi ricordo E niente Vi ringrazio, vi ringrazio, mi sono divertita e brutto Lo rifarei mille volte Mio fratello è venuto anche lui Perché è stupendo, meraviglioso, magnifico E infatti è stato felicissimo anche lui di conoscervi, vero? Sì! È stato felice E niente, vive i poveri Schifo i poveri! Vi lascio la foto! Ciao! Ciao Ne! Ciao Ne! Ciao a tutti! Allora, siccome non riuscivo a mettere la musichetta Sotto questo pezzo di video sto morendo da ridere Perché proprio come potete vedere È roba da denuncia che ho zoomato sul tipo che stava ballando Oh ma vi giuro che forse non si vede perché era in verticale Però faceva troppo ridere Era bravo, era bravissimo Che secondo me se sta guardando sto video Comunque sappi che sei bravissimo Però ridevamo di brutto perché non c'era la musica Quindi vedere uno che ballava così Poi tipo canticchiamo in sottofondo Tipo tu, 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 tu No, anzi E quindi ridevo di brutto Comunque guardate come fa il moonwalk Che minchia è una roba Pazzesca, vera? Bravissimo E niente, sostanzialmente questo È uno stalkeraggio in azione Per un tizio che ballava Ma comunque sia come potete vedere Stupende, meravigliose Uniche, magnifiche E al bacio proprio con mio frate Poche ma buonissime Cioè mi sono divertita una cifra Lo vorrei rifare mille altre volte Grazie, 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 ciao Grazie, 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 grazie Grazie.